Dimissioni dopo appena 100 giorni dalle sue elezioni, Francesco Maragno lascia il suo incarico di sindaco di Montesilvano al termine di un consiglio comunale che ha visto 5 consiglieri del suo gruppo appoggiare la minoranza nella richiesta di posticipare di una settimana la seduta in corso per avere modo di dare agli uffici tecnici la lettura di oltre 2000 emendamenti presentati. Una scelta che il sindaco ha considerato come un atto di mancata coesione e soprattutto di danno nei confronti di un comune che necessita interventi immediati per risanare un debito di bilancio di oltre 60 milioni di euro. Io ho dovuto rassegnare le dimissioni perché ho una mia dignità, ho svolto seriamente il ruolo di sindaco in questi mesi, abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Devo fare i complimenti all'assessore e al dirigente perché hanno confezionato un bilancio di risanamento perché bisogna ricordare che il comune di Montesilvano ha 65 milioni di euro di debiti e fuori dal patto di stabilità al 30 giugno, quindi prima del nostro insediamento per 11 milioni e 370 mila euro, cifre che se confermate a fine anno ci potrebbero far andare in dissesto lente. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro e quindi non è giustificabile il comportamento di tal uno che per ambizioni personali o interessi personali possano mettere a repentaglio la salute di un'amministrazione che sta operando bene sul territorio. Queste sono le motivazioni per cui io mi sono dimesso perché un sindaco deve poter fare affidamento sulla propria maggioranza. Se la propria maggioranza viene meno ha il dovere nei confronti della città di fare un passo indietro.